Lei conosceva Simone? Sì, ero sua cliente. Ha detto che ha aiutato mio figlio in un momento difficile. Sì, è vero. Io devo tanto a Simone perché diciamo che ha sfamato mio figlio in un momento molto difficile e poi successivamente ho provveduto io al pagamento dei panini consumati. Questa la spinta per Luana Bianchi a creare un gruppo su Facebook per aiutare la famiglia di Adam Banelli, il bimbo di due anni morto la notte dell'Epifania nel furgone dei genitori. Adam è morto proprio all'interno di quel mezzo che tante volte era stato il suo rifugio quando i genitori, il papà Simone e la moglie, erano intenti a portare a casa uno stipendio vendendo bibite e panini. Un mezzo che serviva alla famiglia per mantenersi e che adesso è sotto sequestro. Papà Simone e la moglie non parlano con nessuno ma devono trovare la forza di sopravvivere anche per l'altro figlio, Omar, di 11 anni, che la notte dell'incidente era con la nonna. Io avevo pensato e auspicavo proprio ad avere il conto corrente direttamente di Simone, non è stato possibile, mi è stato negato proprio la visita, cioè non vuol vedere nessuno. Con la moglie si sono chiusi loro stessi, sono riuscita a contattare la madre, la signora Banelli Gilda, una persona squisita, 30 chili, tremante, distrutta e a fatica è riuscita a comunicarmi il conto corrente, non lo ricordava nemmeno. Mi sono recata la banca, ho chiesto al direttore, diciamo quasi supplicato, che non provvedesse a prenderci le commissioni, che anche la parte di denaro che andava per le commissioni venisse versata direttamente nel conto della signora, che poi dopo vedrà Simone come gestirgli il merito. Una vicenda straziante che ha smosso il cuore degli Arettini, già più di 1300 iscritti al gruppo Figlio di Simone, attraverso il quale hanno dato il via ad una raccolta fondi. Iscriversi al gruppo, dal gruppo Prelevare Liban, offrire anche solo un caffè, non chiediamo grandi cifre, ma un caffè per ognuno, la forza di tutti farà la differenza per Simone. La Croce Bianca di Rigutino e Arezzo si occuperanno delle spese e dei funerali con il rito musulmano. Il via libera arriverà però soltanto dopo l'autopsia prevista nelle prossime 24 ore.